Salve gente e benvenuti sul canale YouTube MaxCalifornia86. Il video di oggi riguarda Nomadland, film diretto da Chloe Zhao e vincitore di tre statuette come miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista. Purtroppo non sono riuscito a vederlo prima della cerimonia degli Oscar perché la Disney ha fatto la scelta di metterlo sulla sua piattaforma streaming soltanto il 30 di aprile, forse per sfruttare il fatto che il film avrebbe potuto vincere i premi più importanti. Alcuni sono stati fortunati perché hanno potuto vederlo in sala il 29 di aprile, però diciamo che le sale aperte si contavano sulle dita di una mano. Comunque per fortuna il film è uscito soltanto dopo un giorno sulla piattaforma streaming Disney+. Comunque ve ne parlo dopo la sigla! Fern, la protagonista del film, decide di lasciarsi alle spalle la vita di prima dopo la morte del marito. Inizia così la sua vita da nomade a bordo del suo van tra i vari posteggi degli USA. Vive di piccoli lavori saltuari, si prende cura delle persone con le quali viene a contatto, entra a far parte di una comunità di nomadi e rifiuta le proposte di stabilità. Oramai il van è diventata la sua casa e lo spostarsi di stato in stato è diventato per lei uno stile di vita. Chloe Zhao, la regista di Nomadland, confeziona un road movie dallo stile documentaristico, portandoci alla scoperta dei paesaggi in giro per gli Stati Uniti d'America. La regista riesce a farci empatizzare molto bene con la protagonista, interpretata da una strepitosa Frances McDormand, vincitrice del suo secondo Oscar come miglior attrice protagonista, dopo quello per tre manifesti ad Ebbing, Missouri del 2017. Per quanto riguarda Nomadland possiamo dire che gli Oscar per la miglior regia e per la miglior attrice protagonista sono meritati, mentre quello per il miglior film un po' meno, perché dopo la visione di Nomadland non mi è venuto subito da dire che questo è un film da Oscar. Fossi stato un membro della giuria degli Oscar, certamente non avrei votato per Nomadland. Purtroppo non ho avuto modo di vedere Minari e The Father con Anthony Hopkins, entrambi candidati nella categoria miglior film, quindi non posso dire quali meritavano l'Oscar più importante. Minari comunque si può recuperare sulla piattaforma Sky e su quella streaming Now, mentre per The Father dovremmo aspettare fine mese, perché uscirà in versione italiana soltanto il 27 di maggio. Nonostante questo il mio voto è un bel 7,5, quindi ne consiglio la visione non solo a chi è fan di Francis McDormand e quindi ha apprezzato le sue precedenti interpretazioni, ma anche a chi è amante dei film con uno stile documentaristico o sta cercando sulle piattaforme streaming un film diverso dal solito, nel quale riusciamo a empatizzare con la protagonista. Chloe Zhao non solo è entrata nella storia degli Oscar per essere la seconda donna ad aver vinto la statuetta come miglior regista, ma anche perché è la prima regista donna di origine asiatica ad aver vinto l'Oscar in questa categoria. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche se non volete perdervi nulla di quello che pubblicherò qui sul canale YouTube MaxCalifornia86 nelle prossime settimane. Nei commenti fatemi sapere se il film lo avete visto o no, se vi è piaciuto o no, se per voi sono meritati tutti e tre gli Oscar e quali video volete vedere nelle prossime settimane qui sul canale YouTube MaxCalifornia86. In descrizione trovate i link ai miei profili social come Facebook, Instagram, Twitter e Telegram nel quale trovate il mio gruppo MaxCalifornia86 al quale potete tranquillamente iscrivervi. Questa settimana la consueta live per il format al Max qualche chiacchiera sul mio canale YouTube MaxCalifornia86. Non ci sarà il venerdì ma potrebbe esserci o sabato o domenica. Devo ancora decidere bene la data con i miei ospiti. Poi nei prossimi giorni sui miei profili social vi terrò aggiornati. Un saluto e ad un nuovo video qui sul canale YouTube MaxCalifornia86. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.